Come si fa oggi a fare la rivoluzione? Come si fa a combattere contro... Alexa, frullalo! Contro i Black Friday, contro le foto dei gattini, le challenge. Le Molotov, che fine hanno fatto le Molotov? Io volevo sapere solo quanto costano le luci per il water. Tra 400 metri, girare a sinistra. Stasera esco con questa. Non è male. Sì, ma è un 40% per me. Di cosa ti occupi? Recensisco foto di Caps. Non mi piacerà mai abbastanza. Tutto calcolato, ho il mio metodo. Sai che mi fai veramente paura, Ennio? Ciao, devo far riparare questo. Il Modem 56K. Ti mi dica cosa intende per smartphone, precisamente? Un universo parallelo in cui la tecnologia si è fermata al 99. È tipo il migliore dei mondi possibili con meno tecnologia. È tutto qua. La fai tutti i giorni, sta strada, è una cazzata. È la cosa più distante da quello che voglio fare. Che bello, te il palparo. Hai letto delle recensioni? Giri a destra. Pulsare i verbi all'infinito. Svoltare a destra. Condannata a danzare fino a la sua gara. Strumenti come questo, prodigi come questo, servono a fare la rivoluzione. Tu devi tornare in un tuo mondo, Ennio. Sì, ma il problema qua è un altro! Qual è? E io voglio stare con te! Ma quindi si scopa con questo? Siamo a New York, cazzo! Mamma che merda!